Facciamo fare una presentazione da Federica Neglia al nostro Mr. Volare, il sosia di Domenico Modugno, Lino Zinna. Allora, signore e signori, è con grande piacere che questa sera vi presento una grande voce, quella di Nino Lino Zinna. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io chiederei una camera che mi segue perché faccio un po' avanti e un po' indietro. Devo presentare questa canzone e gentilmente ho bisogno di qualche secondo. Che nessuno mi dica di tagliare, Piero. Allora, questa è una canzone di circa 30 anni fa. Modugno la scrisse pensando a quello che succedeva nei giorni ad oggi. Insieme al vecchio fracchi, tutti quanti conosciamo, è una canzone che può sembrare molto bella, allegra, scorrevole. Invece, insieme a questa, sono delle canzoni molto, ma molto tristi, devo dire, e reali. Adesso vi chiedo soltanto di non ascoltare la mia voce, poco importa. Di non ascoltare neanche la musica, ma ascoltate le parole. Perché sono molto, ma molto significative. Sta succedendo questo adesso in Italia soprattutto. E non interessa, cioè non sono interessati soltanto le persone, gli ultracinquantenni, 60 o 70. Perché interessano anche i ragazzi a 30 anni, a 20 anni. Questo è il titolo della canzone, è Il vecchietto. Ma si è sentito dire solo no. Mi dispiace tanto amico, non c'è spazio, già stiamo troppo stretti, non si può. E Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Mi è andato dritto, dritto all'ospedale, chiedendo un posto all'accettazione. Ma il medico di turno si è scusato, guardandolo con un corriso fesso. Le non si rende conti in quale stato, abbiamo gente pure dentro al cesso. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. E Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Allora non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un matto. Con una corda al collo in fondo al mare, ha fatto finta d'essere un merlusso. Al cimitero grande del verano, appena sceso giù dal burroncino. Si è incavolato subito il guardiano, mettendosi a parlare col vecchino. Sto vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. E Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. E Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'al di là. Grazie. Bravo il nostro Lino, il vecchietto dove lo metto. Dove lo mettiamo il vecchietto lui per esempio? Bravissimo Lino, una cosa che lui non è vecchietto. Lui, lui, lei, lui, lei, lei, non lui. Il problema è sociale, quello che sta succedendo adesso è... Eh, purtroppo sì. Grazie a tutti, ciao, arrivederci. Grazie, grazie. E allora io intanto, prima di andare a far vedere la nostra amica... Sì, sì, io ho già sbirciato. Che è totalmente cambiata, è meglio il marito questa sera. Yuhuuu! Allora, il dici...